Non è un granché come sedia, ma può andar bene. Era del mio povero Albert. Ci si sedeva intere giornate. Le gambe lo avevano abbandonato. Perché quel Banfor non viene? Prima della fine della settimana. È così che ho detto. Ma la settimana non è finita, è solo martedì. Una settimana non è finita, non è finita. Watch it close, let it brew, wait. I've been thinking flowers, baby daisies, to brighten up the room. Don't you think some flowers, pretty daisies, might relieve the gloom? Oh, wait. Love, wait. Ehi, giudice. Lui, quando lo avremo? Non sapete pensare ad altro? Sempre lì a rimuginare sui torti subiti e su quello che è successo e ce lo sa quanti anni fa. Avanti. Non sapete pensare ad altro? Non sapete pensare ad altro? As per la in FINニ 증ぃ. If the fun is to plan the plan. All good things come to those who can wait. Grazie a tutti.